E adesso sarà la volta del quartiere di San Francesco. Gli sbaglieratori di San Francesco sono un gruppo nato nel 2007 consolidati degli anni seppur con uscite e rientri in luffi. Negli ultimi anni si sono appiccettati atleti come Federico Bocchi e Lorenzo Schieralucca e quest'ultimo per motivi lavorativi non sarà presente tra i gareggianti, comunque al loro fianco come servente. Quest'anno la squadra presenta il rientro dopo molti anni di inattività di Diego Bochetti, storico sbaglieratore del quartiere Azzurro. Gli altri sbaglieratori sono Michele Napolini, Marco Riveroli, Fabrizio Vetturi, atleti che negli ultimi anni hanno tenuto alto il nome di questo quartiere con ben tre vittorie nelle ultime quattro edizioni di un secondo posto. Spinti dalla passione per le bandiere e da uno spiccato spirito di gruppo, anche quest'anno cercheranno di figurare al meglio in questa competizione. E allora facciamoli annunciare dalle chiarire gli sbaglieratori di San Francesco. Ed eccoli che entrano al centro della piazza, si disporranno a croce simbolo distintivo del proprio quartiere ed effettueranno il saluto al pubblico, ai giudici e alle autorità presenti. Intanto si va anche alla verifica delle bandiere che dovranno lanciare per colorare il cielo della piazza del Certanea. Ed eccoci quindi al saluto. E dopo il secondo effetto, l'arriamo a coppie di spalle, chiamando, guardami le spalle, e poi con un cuore, con un cuore, con un granito, e se cuore la ragazza con un chilo, al final del comienzo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.